Va ora in onda, emigrazione in pillole. Definizioni dal dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo. Mangiamaccheroni. I blasoni popolari, i soprannomi etnici, ossia riferiti a un gruppo nazionale o locale e perfino i nomignoli individuali, come dimostrano i moderni cognomi che da quelli derivano, pongono spesso al centro della loro ironia e denigrazione l'azione del mangiare. Mangiare troppo o poco da ingordi o da poveri affamati, nutrendosi realmente o figurativamente di cibi rari e centrici implausibili. L'associazione tra l'italianità e il cibo, in particolare la pasta, ha portato nel mondo all'utilizzo di vari soprannomi formati con il verbo mangiare e un complemento oggetto, il più diffuso dei quali è maccheroni. Declinato in varie lingue, Mangiamaccheroni è divenuto così sinonimo di italiano, utilizzato con intenti e valori più o meno dispregiativi, analogamente a formule simili o al semplice maccheroni, come Macaroniarz in Polonia, per esempio. Macaroni o Macaroni in Belgio e in Francia. Definizione di Mina Cappussi. Avete ascoltato? Emigrazione in pillole. Definizioni dal dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo.